Ok, grazie John, è sicuramente un pensiero illuminante, ma penso che la difficoltà probabilmente stia nell'applicare questa teoria, che non credo sia così facile. Come ci si può rendere conto che esistono prospettive diverse di vita che possono cambiare la data di morte? Va bene, va bene, scusa, era una mia riflessione. Però non hai ancora risposto all'altra domanda. Da dove viene questo strumento, come tu lo definisci? Molto bene Nadia, grazie veramente perché hai dimostrato di essere una grande attrice per i seguenti punti. Uno, la disponibilità. Due, la determinatezza. Tre, la volontà nella ricerca sullo studio del carattere, cioè in questo caso del personaggio. Ci sono tutti elementi che fanno la differenza tra un attore mediocre e un attore capace. Perché un attore capace ha tanta caparbietà e finché non raggiunge l'eccellenza non molla e tu hai dimostrato veramente grandi doti di attrice, incarnando il carattere di opera. Grazie Nadia, benvenuta nel cast di Life. Grazie, grazie a te Alex. È stata veramente una bellissima esperienza, mi sono molto, 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 molto divertita e hai visto che insieme ce l'abbiamo fatta. Grazie Nadia. Grazie a te. Audio Movie. La realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film, solamente che le immagini le mettete voi. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. De l'alma ma della disperazione. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Mi dispiace ma io non mi fermerò. Con l'Audio Movie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività ciò che sta ascoltando. Grazie a tutti.